Ha delle potenzialità di produttività stupende questa terra, ma l'agricoltura proprio nella politica italiana non è considerata. Importante investire sul territorio, non per un tornaconto immediato faccio questo perché mi torna questo, ma faccio questo perché tutto il territorio cresce insieme a noi. Il territorio è diventato per il territorio, non per il territorio. ma anche il motto che più piccoli il progetto, più più grande il feste. Questo è un'opportunità sociale. La vita è più facile, è più impegnativa, ma è più facile se non ci consideriamo individui isolati.